buongiorno a tutti ragazzi oggi voglio mostrare la mia cover perché non solo una per il mio telefono e lo sticker inizialmente ne ho avuto due adesso non solo una lo sticker l'ho attaccato qua vedete che è un po' rovinato infatti devo pulirlo bene perché l'ho tolto ieri sera non ho avuto tempo e questo è quello che forse metterò non lo so costa un euro e cinquanta vedete un pochino però sono carina ok la cover mi è costata 5 euro me l'ha regata mia mamma l'ho scelta lei e allora diciamo mi avevamo detto che per il mio cellulare perché il mio è un po' vecchiotto è uno dei primi samsung non è che c'era tanto c'era solo una cover però ho fatto a palla da calcio non si vede niente ecco bravo stai così ecco ok questa è la mia cover vabbè c'era solo una palla da calcio e tra per maschi e quindi mia mamma ha detto di non me l'ha presa però mi ha preso questa che dai su misura ci sta dopo vi faccio vedere come ci sta e comunque non è la sua sta così in realtà credo che dovrebbe stare così ma a me sta così quindi così allora è molto carino io la sono stupenda allora è morbida cioè è tra morbido e duro qua è un po' duro ma è anche morbido qua è molto non è una fra le più morbide e in questo video non vi mostro perché io ne ho un'altra ma la devo regalare alla mia amica domani perché lei ha compiuto gli anni e domani facciamo la festa qui a casa mia perché è stato il compleanno di mio papà il compleanno del papà della mia amica il suo compleanno quindi tantissimi compleanni e tra poco arriva anche il mio quindi pensate quanti compleanni allora la cover è azzurra e trasparente allora voi la vedete azzurra ma in realtà è un azzurro acqua molto acquoso aspettate che c'è una lucina magari si vede meglio ecco così la vedete esattamente così anzi è un pochino più chiara è nella realtà però è circa così allora dietro è tutta liscia e qua è tutta ruvida fatta tutta ruvidosa molto carina ok e adesso vi faccio vedere come sta il mio cellulare credo che dovrebbe stare così ma io la metto così perché super giù è tipo la misura vedete vedete qua le cose non vanno giuste però diciamo qua per fare i video aspettate aspettate passiamo il soggetto io vi faccio vedere ok allora qua video scusate per la mano ecco qua vedete il video invece si vede si vede non si vede la cosa azzurra quindi quindi si vede diciamo ok spero che la mia cover vi sia piaciuta se volete vedere il mio compleanno che do al compleanno della mia amica basta chiedere vi faccio la recensione quindi spero che vi siano piaciuti questi due oggettini e mi potete dire se dovrei attaccarla qua dietro se l'ho fatto se dovrei attaccarla qua dietro aspettate se la rosa la dovrete attaccarla qua dietro grazie e al prossimo video